ok dovremo essere in live, ciao ragazzi, ciao a tutti, così live al volo, un'oretta questa mattina andiamo a controllare immediatamente la dashboard andiamo controlliamo, perfetto, perfetto dovrebbe essere tutto a posto, va bene riprendiamo, ah già un dropped frames oh la la, c'è mio figlio di qua, sta strimando anche lui, va bene, insomma ora noi eravamo qua alle riserve federali per uccidere o salutativamente salvare un guru lo dovremmo portare alla belge escape, perfetto, allora andiamo alla belge escape dovremmo essere a posto ok dovremmo essere totalmente a posto, così possiamo uscire non era di qua che si andava fuori, chi si ricordava più ok andiamoceli qua usciamo, dovremmo uscire di qua, dovrebbe, no non è questo, non è da questa parte, è da questa altra parte che si va fuori, ok dovremmo uscire, dovremmo riuscire a uscire oh, un po' la dirinti con questo posto qua oh, quanta roba qua cominciamo a prendere tutto qua mamma mia, quanta roba, quanta roba, prendiamo, 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 prendiamo prendiamo tutto tanto abbiamo i nostri muri, abbiamo, dovremmo, dovremmo, dovremmo esserci qua dovremmo avere già preso tutto qua da dove siamo arrivati, quindi andiamo da quest'altra parte a quest'altra di qua, e tra l'altro noi, ma quanta roba c'è qua giustamente qua c'è di tutto, sono le riserve federali, quindi ok, andiamoci a fuori, qui qua sto prendendo, sto facendo l'avido, eh ragazzi, sto prendendo qualsiasi cosa io provi fuori avevamo già, fuori avevamo già, come si dice, ripulito tutto dovremmo essere a posto, no? però, non si sa mai Commonwealth, perfetto ora da qui, ce ne andiamo alla Belcher's Cave dovremmo esserci, dovremmo essere a posto insomma, non so se questo scapperà appena fuori, vediamo vediamo, vediamo, va come si è messi qua, non ci sono altre non ci sono altre drop e trem va, ho già preso tutto, quindi, no, è tutto, proprio no però, insomma, buona parte delle cose, non ho più i miei compagni andiamo, andiamo a Belcher's Cave la Belcher's Cave, qui vicino, Belcher's Cave magari qua, mi conviene andarci a Kerismalto, perché loro mi avevano detto di ucciderlo ok, facciamo così, ci andiamo a Kerismalto, appena arriviamo lì diamo tutte le varie cose ai Companions, se ci sono, chiaramente, altrimenti li trasporteremo ok, qua, Harley la trade ok, andiamo abbiamo no fermentazione, sparo e prega questo, no, cecchino basta vediamo da letto militare coppola tasmat vestito fiumato ragazzi ci siamo perfetto ora and conversation allora vediamo bene inventario ci vestiamo col coppola chiave con montatura nera vestito fiumato e ci siamo vediamo come siamo messi qua guarda qua che roba guarda qua che roba ok entriamo entriamo belcher's cave non mi fa entrare perché belcher's cave non mi fa entrare da questa storia mmm va bene va bene insomma andiamocene qua metto un po' meglio il microfono perfetto eccomi qua eccomi qua col microfono messo meglio andiamo a vedere andiamo a vedere andiamo a vedere allora qua ci prendiamo anche ora qua salviamo vediamo che posso fare per te adesso per il momento è tutto ok venite venite se hai bisogno vediamo 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 qua dobbiamo andare di qua alla peppa alla che verna di belcher's no qua ora dovremmo essere qua allora e dov'è e dov'è e dov'è che ce ne dobbiamo andare di qua andiamocene di qua oh molto più complessa di quello che pensavo che è e qua cosa c'è qua cosa c'è qua cosa c'è qua chi è questa è una plerum questa è una plerum sicuramente sicuramente una plerum non ci pensavo allora che mi va a casa arriviamo qua arriviamo qua arriviamo qua salviamo 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 poi dopo aver salvato ci prendiamo una birra che vediamo 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 ok ok bobby ecco qua non ci pensavo ci pensavo ne pensavo ci pensavo non ci pensavo che non ci pensavo E ora, mi chiede con la tua head? Certo. Ma ho bisogno di sapere cosa che fai quando la tua triggere ha fatto un'icchia. La maggior parte di questi muppettici sono attraverso a sottolineare a sottolineare, non importa se sei BEM o noi, e ho bisogno di qualcuno che conosce la differenza. Inoltre, ecco. Il tuo riempio. È un piccolo boomstick che ho fatto da mio amico Zinx. Il pack è un piaccio reale, solo per assicurare che sai a chi stia. Ok. Io ho bisogno di cose come questo, che mi ha detto molto sui. Cosa? Ha, ha, ha. Non mi piaceva, la città è arrivata. Ecco, questo è il mio modo di mostrare un po' di gratitudine. Cosa di Minutemen? C'è un problema? Non di tutto. Ci sono le più cose che potremmo per noi. Si, si. Grazie. Moltovi, se si. Se si. 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 dovremmo ruffare alcuni chiamati per fare la differenza. Tu dovresti bisogno di un disguardo. Per un buon vecchio, prendere una delle mascarze che ci siamo lasciati nella cella. Diamond City è un po' più triccio. Tu dovresti bisogno di un uniforme guarda, lo che significa che dovresti trovare uno. Lo farò, è tutto. Perciò che sembrava come una tipica di Diamond City è la unica forma che questo non arriva per uscire. Fingale Keep. Pick a good mask. Stick up solo. Questi qua. Non ci credo. Vediamo qua, vediamo qua come si è messo. Dati. Ancora. Like a good news. Find and keep a Diamond City good guard. Pick up a good mask from a dead prisoner. Stick up solo. Va bene. Boston After Dark. Faradet. A roba birra. Lontano da chiasa. Riunioni. Esplora Fortaglia. Lost Battle. Lost Battle. Wild Dog. Wild Bride. La riunione. Poche storie. Ok. Adesso ci rivestiamo come vestiaio. Ok. Ci siamo. Perfetto. Allora qua. Andiamo fuori. Questo posto è da scorrere bene. Qua si ruba tutto. Qua si ruba cosa si possa. Ah è vero qua. Questa cosa ha? Switch. Bene. Switch. Ho switch. Lavoratore chimico. Qua. Questa è una Playroom ragazza. Scolone. Prigone. Zul. E chi ha pagato la masca? Sti che ha freddato. Chi è freddato? Allora qua. 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 Vediamo qua. Cosa c'è qui sopra. Cosa c'è qui sopra. C'è un pochino di. C'è un pochino di. Di morti qui eh. Altri. Altri cose. In cui si può dormire. Questa è una Playroom. Hey. Hey. How's it going? Questa è una Playroom. Let's trade. Just looking to trade a little. Sure. Whatever. Allora. I materiali. Andiamogli bene tutto qua. E poi gli diamo anche il cibo eh. Diamo anche il cibo. Belandar. Beer. Bistakene sotto il sangue. Bosconcini. D'Iguana. Scoiattolo. Baffautine. Diamo. Pamelle gommose. Carne cram. No. Cotolette. Fiori. Cotolette. Cotolette. Psycho Taz, Radix, Radaway, Radix anche, Radix un pochino ce lo prendiamo invece, due almeno, Radix almeno due, bene, la sacca di sangue, Salisbury Sticks, vediamo Tiguana, Stealth Boy, Sugarbombs, Lads, Citi Yum Yum, vodka, whisky, perfetto, E allora qua, Air Lady, guarda le mie armi, originale pistola, la mia fermentazione, ne diamo un bel po', uccelli da caccia, Zinx Shotgun, cos'è la Zinx Shotgun? Questo però bisogna smontare e metterlo, sicuramente è un castello migliore del nostro, X, questo è un castello standard, perché? Wow, Zinx Shotgun, è perfetto questo, fa già 65, mentre questo, ma questo è da usare, no, ma questo non ha senso, meglio usare questo, questo qua, bello questo, fa già più danni del mio, il mio vestiario, allora, braccio destro, sinistro, di Regins, cappello militare, boh, cappello militare, dai ce lo prendiamo, cappello militare, eh? completo la strada, cerco radioattivo, gambe sportivo, dopo, ci teniamo il militare, Feral Woolmask, destra da predore, sinistra da predore, Woolmask, e non ho compreso bene queste, ma questo è un gruppo di, questo è un gruppo di predoni in poche parole, ok, è vero ma qua se io parlo con le persone, perdono e fecce, perdono e fecce lo posso fare per te? guarda? ho le migliori cose che puoi comprare non c'è niente di veramente interessante ok ok dai perdono e fecce qua, andiamo a vedere di qua perdono e perdono ehm ehm ha problem no problem no problem barter ask about gran guarda? guarda? niente di che non c'è altro sia va bene, ok perdono e frecce ehm ehm da ver, questi questo da ver, qua non c'è niente di che abbiamo già visto non c'è niente di che perfetto andiamocela andiamocela va Speedball chi è? chi è? chi è? queste devo prendere queste no queste neanche qua qua si può dormire perfetto ma lavoro per armatura diciamo che andiamocela di qua poi vedremo se qua si riesce qua lui è ok e come si riesce ma è curioso story with your brother in another life my brother might have been a good man when he found out what I was he had to make a choice he chose blood that's why we spill it over time he became his own monster so it goes some are born others made ok what do you do here? killing's my only job and I work alone work I'm looking for work you want work? talk to my brother verduset non c'è altro yeah so Jack's been drinking his father's blood like a vampire cool vai bird oh chiaro a questo punto ce ne andiamo va bene va bene ce ne andiamo di qua non c'è bisogno di stare qua ma dice scusa got a problem got a problem got a problem got a problem ok usciamo di qua andiamo c'è una for strong a questo punto tutta una serie di tutta una serie di no far strong dati dati abbiamo quella riunione perfetto fortagen no fortagen lasciando stare il saldiamocela qua salva commonwealth perfetto andiamocene ok 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 allora noi ce ne dobbiamo entrare fermiamo il coso questo è tutto da esplorare bene e chi c'è qua? chi c'è che sta sparando? chi sta sparando? signora lasciamo di bene lavala anche se si potrebbe andare a curiosare eh perché sapete che io sono super curioso super curioso super curioso io super curioso super curioso chi c'è qua? c'è qualcuno qua? chi è morto qua? chi è? ok ok e ci siamo qui c'è? ok e a me ne dì questi ragazzi questi ragazzi qua erano già super ok vediamo qua ecco 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 non riusciamo ad andare su? non riusciamo ad andare su? non riusciamo ad andare su? ecco beh io non so non ce la facciamo salire? e dove si saliva? di qua? da nessuna parte evidentemente ok qua ci sono dei gran letti è vero qua ci sono tutte è vero è vero 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 ok un gran belluto però com'è facile a salire? non è previsto che io salga lì evidentemente erano le varie cose erano erano le varie andiamo di luttare il più possibile andiamo di luttare il più possibile andiamo di luttare il più possibile sempre a farci con no non c'è niente di interessante ok va bene possiamo uscire qui? dove è il girafiore? qui dove eravamo? no oh il minuteman oh interessante qua vediamo qua ma qua comunque non c'è quasi più niente di veramente interessante per quasi andarmene qua comunque abbiamo preso tutto qua? se abbiamo preso tutto e non si riesce a salire la modellazione qui? cos'è quello lì? belta però una belta però è un'altra cosa molto grande ma non ce l'ho già passato guarda evidentemente no evidentemente ce l'ho passato tra lasciando un bel po' di roba ma qua anche in questo me lo ricordo quindi ok allora qua mi sono già passato mi sono già passato perfetto andiamo a vedere il red rocket a questo punto no? per armi ma bene anche no? qua questa qua è una occasione manchiata questo potrebbe essere una play room ma non ce l'ha messa la non ce l'ha messo un'officina quindi non ce l'ha messo un'officina c'è poco da fare ok chiaramente devo vedercene di qua qua c'è sempre qualcosa cosa? per armi per armature armature atomiche se ci si vuole ok andiamo a dare andiamo a dare un po' di andiamo a dare un po' di un po' di materiali a un po' di materiali a Iden Iden dove sei Iden? Iden Iden pensa a te quando mi serve Iden eh? inventario varie teleport Iden depravity companion trasportiamo Iden 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 eccola qua Iden è grande Iden vedi? destra destra ok i materiali diamole pure qua un po' di materiali ok ok perfetto perfetto and conversation poi dov'è? eccola qua ciao no vai vai Harley destra ok mi avvertono che c'è il caffè arrivo subito allora dobbiamo essere là o? allora dobbiamo essere là o? eccola Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, andiamo direttamente a Okiria. Allora, vediamo il vestiario. Semi-audio, Vings Shotgun. Quello me lo tengo. Allora, metropurito, lustrini, letto militare. Ferro militare, ispettore, sportivo, svolcito, ferro gugnappe a destra del mio cuore. Chiali di montatura nera, smoking, torace da predone. Tutte da meccanico. Ci siamo, perfetto. Andiamo e... Andiamo... Ok, andiamo ragazzi. Adesso basta. Adesso andiamo davvero. Allora... Allora io da lì sono riuscito a... Ora in realtà... Ma sapete una cosa? Che in realtà mi converebbe addirittura andare da dance. Perché qua in ogni caso quando esci arriva la confraternita. Allora se noi andiamo prima da dance... Allora se noi andiamo prima da dance... Da... Riunioni. Ehm... Al patro, no? Andiamo qua e... Wolfdog. Allora... Dove siamo qua? Ma... Aspetta davvero mi conviene andare prima... Da loro. Ma posso andare da dance. Allora... Ah... No... No... Lo vediamo... Sì, sì... Andiamo a creare 4dance... Poi faccio due, le sue due. O altrimenti quello se voglio non provare. Faccio le quercate, insomma. se mi conviene andare prima perché se io ah sono già dentro qua io ok vabbè tiriamo via auto sell your stuff ah ma allora ok chi è questo? c'è chi? c'è chi è qui? Questa è la storia di questo posto? Beh, per esempio, mi nome è Chuck, Chuck Finlay. Parto di un gruppo di outcasti di Broteh di Steele. Sono da D.C. area. E questo bunker è il nostro casa in Commonwealth. Perciò qualcosa? Perché hai lasciato la Broteh di Steele? È complicato, ma la versione è, la Broteh di Steele è iniziato a l'estero costo, dopo la grande guerra, e la missione originale era di prendere pre-war technology. Un po' 30 anni fa, la Broteh di sentire un gruppo a l'estero, e, beh, questo gruppo è iniziato in la D.C. wasteland, che è dove la maggior parte del gruppo qui cresce. Il nostro leader è un uomo chiamato Owen Lyons. Quindi, in addition a acquistare la tecnologia, Lyons crede che era importante essere un buon vecchio, e aiutare la comunità locale, che eventualmente non si tratta bene con la maggior parte della Broteh. Vedete, siamo iniziati in un grande progetto di prendere la acquistare di acquistare di acquistare della D.C. e, beh, è una storia lunga f***a. Durante il tempo, più e più, i membri della Broteh di Steele iniziaroni a vedere assistere la comunità della D.C. come una scuola di nostre risorse. E poi, Owen Lyons diede. E, beh, diciamo, che cosa è interessante dopo questo. Un po' anni passi, e c'era una struttura di potere, e, ultimamente, i nostri scopi erano di seguire il 16 anni che era appogliato dell'Università della Broteca che non si tratta per le pasture e non si tratta per le pasture. Se la maggiori persone stavano, abbiamo deciso di trattaare. E' stato 4 anni fa. ci siamo arrivati al nord-estate al comunale e abbiamo fatto una vita qui sempre qui. Cosa? E' stato in charge? E' stato in charge? Me? Oh, no. Può essere la più grande, ma nessuno è in charge. E' stato un'ierarca con la Broteh di Steele e tutti abbiamo visto che è stato molto bello. La città di comando era così inefficiente che ci si tratta di usare se abbiamo provato questo s***. siamo un piccolo gruppo e non abbiamo bisogno una hierarca formale che ci s***erà. Niente gerarchie. Dio di qualcosa di altro. Insomma... Questi qua non hanno voluto... Come posso... Come posso andare in e cercare questo? Come posso andare in? Beh, ovviamente non ci mettiamo solo nessuno in. Noi... 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 Barter? Cos'ha questo? Oh... Bug jumps it? Ok, allora vediamo bene. Un'altra... Un'altra fra lancia fiamme laser laser Gartling sperimentale. Questi ne hanno di cosine eh. Ce l'è andata da cecchino. Un telescopico Gauss. Spazio laser fucile. Ok... T60... T60... Oh... T60... Traccia... CDA... T60... 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 C'hanno un pochino di cose queste... Per vista... Materiali... Munizioni... Munizioni... Calibro 50... Calibro 45... Che le mangio... Come... Ma no... Ne ho abbastanza un po' per tutto... Quindi... Niente... Hey... Hey there... Something I can help you with? Che ne chiedevo? Che ne chiedevo? Che ne chiedevo? Beh... Ovviamente... Non ci chiedevo nessuno in. L'unica razza... Che hai fatto... 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 Ne chiedevo la chuda... Che ti darà! Bambino... You scratch my back... Ich scratche tus da settemora... Se v 80... Si lo chiedevo... Che hai fatto... In invece... Che... Con virg pra... Que x horse... You know... E patrizione... FUSION CITY. It's a goddamn dangerous job providing transportation through the glowing sea, but it does pay well. One of our crew, goes by the name Gravthar, got denied entrance to FUSION CITY after taunting the guards there and confiscated his weapons and supplies. Any tech, the security division at FUSION CITY, never really formally charged Gravthar with anything, but the items they confiscated ended up being sold at one of their public auctions. One of the items they took was Gravthar's sledgehammer. That weapon has a lot of serious sentimental value to Gravthar since it was given to him by his late brother Warven right before he died. Get to the point. What do you need? Right. So any tech holds public auctions every now and then and that's where they sell their confiscated property. I think the last one was over at the church at Nantic Banks. Anyway, head over to Nantic Banks and see what you can find out about the auction and track down the sledgehammer. Bring the weapon back to me and we'll see about letting you in the bunker. Deal? Come on, let me in. Come on, let me in. No deal. You help us, we help you. But you gotta take the first step. Are you in? Okay, I'll help you. Okay, I'll help you. All right, I'll mark the location of the church on your map. Okay, allora. Allora, qua. Allora, se qua, siccome c'è un autosel. Fatemelo vedere qua. Allora, prendiamo da te, Harley, e... Need something? C'è un autosel. Quindi, a questo punto, let's trade. I want to trade a few things. If that's what you want to call it. mi ha detto, pistola, Mars Gatling, Shies Kebab lo teniamo. Neutelescopico lo teniamo. Questiario. vediamo tutta questa roba qua, che la coppa la possiamo vendere, ok, questo qua si può vendere anche questa, posso vendere anche questa, T60, T60, che se ne frega, che poi posso comprarla, ok, bestiario, varia, perfetto, and conversation, poi avevano detto a te, scusa, no, a te, ehi, commercia, chi è, bestiario, bestiario, merda, perfetto, ho detto all'Aerios, anche tu hai cose, anche tu hai cosa, let's trade, let's trade some things, chi mi ha scritto qualcosa, la pubblicità, armi, estigenale, protection, carabina, coltello, fatman, revolver, stecca a biliardo, tiro a pugni, sensatore, carabina, culo compensato, armi, bestiario, questo lo vendiamo io, aggaccio a destra il metallo, si, direi che si può, può vendere tutta questa roba, sarebbero poco sinceri, e poi ricontrolliamo da Arley, ricontrolliamo da Arley, secondo me anche da Arley, se ci fosse Arley, alchiria, scusa, what's on your mind? the trade? that's trade, what you got? allora, armi, ok, hai metto il blu pulito, ok, ok, e conversazione, e conversazione, allora qua, Arley, Arley, oh, sgridato, c'è mio figlio sgridato, ma se questo si può prendere, questo lo vendiamo, dovremo essere a posto, ci manca solo il cibo che ho dato a Eden, la strade, ok, ok, allora, vediamo bene, gli armi, il vestiario, provisto, allora, con cibo, con cibo, caramelli, con mosa, di armi, carame, e questa masha, anche il cibo di blanco, mele di antibodies, patatine, orkin beans, music stick, schiller bombs, fancy lads, ct union, perfetto, e conversazione, ok, ora, autosale, ino staff, perfetto, vediamo, in siamo, sto automatica, questi vanno, genna, non tagliatrice, la pistola, la cecchino, la pistola, la rabbina a combattimento, chiave drauli, con talo seramanico, Fatma, un fucilo assalto, un fucilo da ghiaccio, granata impulsi, no, granata impulsi, la circolare, mele straande, Alder Gatling, ma che se ne frega, lo vendiamo, ma fa a verdol una fermentazione revolver, artigianale, pistola una fermentazione e ne vendiamo 6 stecca da miliardo tirapugni fucile da combattimento no anche l'asad 44 il mio 44, 33 facciamo un minimo di testo prato perforante fusano le fucile carabine da combattimento fucile da doppia canna fucile da caccia il nostro tetto laser che se ne frega fucile da cecchino il mio uso calibrato il mio uso calibrato il mio uso calibrato si si la facciata cinese si 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 con questo qua con questo modificheremo questo ok per le mie armi il mio mestiario pulito con uno streame gabbia 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 sinistra in cuoio le calzamali, i canottieri jeans, un cappello militare un plesso da predore, un plesso da rispettore, da strada beh, vediamo questo, ci teniamo la coppola, dai, fedoro svolcito, ferro, gul, mas, no? non capisco è legata a quei predoni, secondo me ho visto il cuoio maschi, giacchi in botti terlù magliette, scacchi e pantaloni anti gas con occhialini gas d'assalto occhiali avvolgenti montatura nera da soldatore solo pet smoking P60 P60B c'è da predore, da robot cuoio, metallo piccani con la forma di appostino se l'ho lavato piumato rossa questo, questo si vende questo si vende questo si vende questo si vende piumbato, piumbato piumbato bestiario vediamo martedì settante birra, bistakras chiasang, baffaut caramelle gommose carne e creme cibo muffito estamash bottino dolce macchina cheese di blanco mele dandy boy patatine pork and beans salisbury stick sugar bombs fancy lad yum yum perfetto mi da 7500 solo light perfetto 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 ora 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 vediamo bene fucile laser condensatore potenziale questo condensatore standard canna dal cecchino e canna dal cecchino e una corda faccio comunque beh questo qua lo dovrò fare a allora questo è lo temperato questo è lo standard questo è lo standard mi manchino tutti i materiali mi manchino questo qua dovrei andare a va bene questo qua va bene questo qua disce ok qua riesco a entrare io qua richiede la chiave niente devo prima entrare da loro ora lui mi ha detto dati walk the door come il 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 è il 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 Dov'è che sono io adesso? Basco paludoso. Si me lo fa fare, si me lo fa. Andiamo ora a Tikvaks. Ok. Ok. Ok, devo girare a destra. Ok. Sono nella direzione giusta, ma devo andare di là. Ok, andiamocene di qua. Perfetto. Vediamo qua, perdoni la ragazza, perdoni la ragazza, il bosco paludoso. Ok. Ok, andiamo bene. Devo passarli sotto e continuare. Devo passarli sotto e continuare. Ma non c'è niente qui in giro? Alcune. Alcune. No, no. Controlliamo qua. Andiamocene bene in giro con questo qua. Allora, qua, io sto passando qua sotto, poi continuo. A destra cosa ci sarà mai? Allora, qua, non c'è niente in giro, eh. E c'era quello, sarà la must bike. Intersezione must bike, sicuramente. Intersezione must bike. Ok, ma non c'è niente. Un posto molto vuoto questo, eh. Oh, cos'è successo? Cosa mi è comparsa là? Davanti? Va bene, andiamo avanti qua. Questo qua. Un ospedale, va bene, andiamo avanti noi. Cosa sarà mai questo? Alla Poseidon? O... Bè... ... ... ... ... ... ... ... Salve, perfetto. Ok. Va bene. Uno è qua, comunque. Uno è qua. Qua devo trovarne uno, eh. L'ho fatto fuori io qua, dove è finito. Qua. Perché c'è tutta questa roba qua. Ok. 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 Cominciano a esserci un bel po' di cose qua. Andiamo bene a curiosare. Questa è la cosa. Ok, adesso non c'è un'anima. Quello che lo so, 11, 22, perfetto. Vabbè, andiamo avanti. Quelli ci sono i forgiati, secondo me, eh. Lì ci sono i forgiati. Cioè, lì c'è la Saus. Mi avviso, eh. Magari. Dov'è là che dobbiamo andare, allora? No, non è la Saus, comunque. Non dovrebbe essere la Saus, se andrà la parte opposta, no? Forse è la Poseidon, addirittura. Allora, andiamo a vedere questa qua, cos'è? Faccio la Poseidon. Oh 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 Via 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 Ok Dove sono? Dove sono? Dove sono i ghoul? Ok Andiamocene là Poi abbiamo fatto un bel disastro con questo qua Quindi Abbiamo fatto un bel disastro Dove sono? Ok ci siamo Ora Cos'è questo bunker? Che vedo qui Che non mi ricordo più Ok Cos'è questo? Che bunker è? Andiamo bene a curiosare da questo bunker Questo è un bunker Lo è finito Lo è finito Bene Ok Andiamo a controllare là Cosa è successo qua? Ok andiamo a vedere chi c'è qua su Ok 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 Saldiamo 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 perché oltretutto Qua è pieno di Se non sbaglio Eppure è pieno di Deathlow Se non sbaglio è pieno di Deathlow Se non sbaglio è pieno di Deathlow Ok Ok Torniamo giù Torniamo giù Torniamo giù Ok 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 Ci siamo Ora la Posenum Abbiamo già Ok Ok Andiamo dal davanti Via Ok Ok Crozzare Pines Facciamo che è? Andiamo di qua Voglio ciuffargli la cosa C'è il modo di ciuffargli la C'è il modo di ciuffargli la L'armatura atomica se non l'hanno già Oh no Perché? Non me la fa prendere? Allora Che cazzo è sta? Fantastic Dove siete? Oh, so che sei qui Ti troverò Dai, dov'è? Dov'è? Bene Ho fatto fuori Ce n'è rimasto uno Perfetto Perfetto Va bene Ok Allora Andiamo da dentro Bene Ci siamo qua Ci siamo qua 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 comunque Benissimo Benissimo Questo abbiamo fatto fuori, eh? Ok 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 Entriamo di qua Bene Perfetto 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 Un attimo. 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 Prendiamo il teschio, mando indettolo, action list, season city, lost and found, non sarò di action, Brooklyn Wanderers, Red Motorcycle, 128, part per Wattapax, sold to Ryder Emporium, c'è un simile cruel, 96 caps, erSí Rio de Janeiro, banal, fanno veri, ci credo che io, giusto che mi chiesce sempre del Bello Perciò, mi chiesce sempre del Bello Perciò, Andiamo su, voilà, qua, ecco, lo sapevo, no, c'è un coso, c'è, perfetto, perfetto, diamogliela, andiamo qui, quindi la frammentazione, plasma, questi li devo tenere, la pesante fucile, questo è bello, il vestiario, il gesto in cuoio, il sede a predone, il cuoio, l'anglia integrale, la frammentazione, scappuccia con scinghie, sinistra in cuoio, metallo, sinistra in cuoio, torace da predone, torace in cuoio, che pinte, Ok, andiamo verso, andiamo in su, a vedere se, a capire qualcosa da qua, Ok, andiamo su di qua, No, così, per me, perfetto, Bene Facile, 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 facile cosa, basta meno io, facile, facile, Non scappare ok dove qui sta prendendo da dove vai ai Sì ora bene qui dove si scuola cosa cosa di vista seguiamo la antena che tolieta e seguiamo ora ho finito facciamo che qua ci prendiamo finalmente no non ne ho più di 45 no devo comprare delle 45 carica l'hasa c'è chi dai su vediamo ok c'è uno qui sotto dov'è che è vediamo che adesso andiamo giù ho finito le 45 però che miseria ho finito le 45 tutto ciò non è bello tutto ciò non è bello finire le 45 non è bello per niente ok andiamo a vedere qua non c'è niente ma perchè tutti questi qua non c'è niente 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 a chi non è supermeccanico, guarda che c'è stato via 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 ok Questi qua, stanno proprio in merco sempre Perché non ci sono mai stati, questo è il fatto Dov'è l'altro? Sono via Ok, sono finiti Ok, allora vediamo che mio figlio mi deve dire una cosa Grazie 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 a tutti.